wow let's go spam allora nemico non la prendi per favore godo godo ok iniziamo bene la fernet la fernet ci risponde la fernet vado non so perché mi tende a sinistra che aumenta la zona morta del controller secondo me che il controller è un pochettino rotto per il mio umide parere ok questa deve essere tua caro ok io vado a prendere il busto tutto il tempo tanto non è esatto non è così bravo perfetta cacchio pensavo di essere ancora attaccata ma niente dimmi che lo fai dimmi che lo fai oh bravo che l'hai preso tu perfetto tolta busto tocco ma ma che gran tiro che gran tiro così si continua l'azione questo è un grande bel tiro let's go bella monster ti ho visto ti ho visto è che stavo pensando a tutto questo grazie bella giovia oh dai che mi sto riprendendo piano piano ieri non ero in giornata ieri non ero affatto in giornata per giocare infatti probabilmente li ho perse tutte se non quasi se è arrivato il platino no quelle sono sono come si chiama video registrati un botto di tempo fa sono ancora ho ancora tanti video da pubblicare prima di arrivare adesso quindi ce l'hai ma potete lasciare io ci ero però ok immaginavo immaginavo gran pale e mezzo eh peccato vabbè prendiamo il bus e torniamo indietro non è un problema ok noi siamo olè vabbè godo saltato eh no il secondo no ti sentite ho sceso questa settimana hittiamo il gc dc no sono sceso un pelino ma sono comunque quasi cioè sono se non sbaglio sono sceso sotto il c3 ma adesso non mi ricordo dovrei essere divisore 4 se non sbaglio ma che sfiga ragazzi chi sfiga è tornato il mara di prima cazzo me ne ero perso che è che ho cambiato macchina cioè io ti ho detto vi ho detto raga io vado a periodi cioè dipende a volte vado benissimo con una macchina poi mi si spegne quel momento e vado benissimo con un'altra macchina eh no fintiamo bravo no che peccato eh non ce l'avevo porca oh non è gol godo 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 ce l'abbiamo ce l'abbiamo prendo un boost poi alza oh no perchè si è andato faccia di merda eh no brutto ok io sono aspetta aspetta un attimo eh non ci credo ah no non ci credo godo godo tirale via godo ok scusatemi ma eravamo in un momento un attimo ah fondamentale della vita della nostra vita da futuri grand champion è bruttissima sta palla eh ok easy non so perchè mi sta tagliando tutte le palle mi sta tagliando tutte le palle ok tolgo non ho boost ultimamente sto nerdando su forte ma sai che non ci credo sai che ho giocato il primo giorno il secondo giorno che era uscita la nuova season e non mi è sembrato malaccio però non ho più avuto tempo per giocarci quindi rip il fatto invece di non sapere che macchina usare fino a ieri non lo sapevo nemmeno io ne ho cambiate 15 oggi ho iniziato dunque guarda quanto godo invece no oggi ho iniziato con questa e concludiamo con questa proviamo ad abituarci a una macchina orca ma allora poi dipende ovviamente dipende tutto anche dai nostri compagni cioè non possiamo giocare da soli però dimmi che godo eh no ho preso l'angolo fa un culo eh mi sa che non faccio intempatro e meno male che sia alzata godo prendo il boost ok ma se era girato al contrario ma che problemi ha palla e mezzo perfetta era diventato un tiro in porta quindi se lei domani pomeriggio c'è ranka allora non sono sicuro di esserci domani pomeriggio comunque quando quando mi vedi online al pomeriggio è per giocare insieme a te quindi non ti preoccupare non ti preoccupare ah ti ho detto va a periodi il pomeriggio perché ci sono periodi in cui riesco tranquillamente ok salvata a a stremmare il pomeriggio e per me è anche meglio ma vittoria victorious prima primo game victorious è una bella partita dai è una bella partita adesso pausettina caffè e ci siamo però se non riesco purtroppo holly mario attenzione holly mario italiano vado io let's go siamo con holly il mio cantante preferito del momento lo conoscete holly raga è però lui una merda in realtà ho sbagliato il kick off lui è una merda posso dire che lui è una merda avete visto dove è andato let's go no mi ha feicato va bene stavo per mandare ok demolito stavo per mandare affanculo holly mario ok cosa fai? palla dietro holly holly arca miseria va bene va bene va bene va bene forse si è svegliato ha dato il joystick al fratello ha messa oh godo 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 no ma è impossibile secondo me questa è brutta brutta tutta tua ok ok gran controllo non ci credo raga vai golly dai ma non ci credo ma gliel'avevo messa perfetta mi si era attaccata al muro palla dentro dai tira ti prego ti prego va bene va bene raga noi ci siamo noi ci siamo prendila ok sapevo immagino ma gran tiro questo oh con la fannech non dovevo saltare qua va bene vado io domani non ho bella giovi bella Buonanotte Buon riposo E buona scuola domani Ok tua? Ma sei scandaloso Mark Sei proprio scandaloso Ai Tiro io Ok stravinto Pam Cattivissimo 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 me Vado di nuovo Lo vinciamo di nuovo? Bam Certo che lo vinciamo Vai No Lasciamogli una controlla No che brutta roba ho fatto Ok ci siamo Abbiamo ripreso il controllo della macchina Siamo più indietro Ok Non ho boost Ma provo lo stesso A mettertela in mezzo Bro Mamma raga Era perfetta E si fa saltare E si fa saltare ovviamente Godo Palla su E pedalare Prendo il boost E torno indietro Let's go Let's go Ok Saltato Palla su Lui la controlla E la controlla Sì pure bene Tutta tua Mario Bruttissimo Bruttissimo Tocco Godo Ok La prendi? Bravo Mettila in mezzo In mezzo Ti prego Ma che cazzo Vai Eh no Non posso prenderla Controllata Perfetta Controllata Ancora Ah cacchio Pensavo di saltarlo Non lo prendo Godo Palla lunga Pedalare Ormai è il nostro mantra Preferito Prendiamo il boost Non ci credo Che brutto tocco Che ha fatto Ok tolta Holy Mario Non mi piace Ragazzi È proprio Scandaloso Vai Bampato uno E hitato l'altro La palla è buona La palla è buona Mario La palla è buona Cazzo Sapete che Dalla prospettiva Che avevo Non sembrava Pushasse Invece l'ho fatto Ok Devi metterla in mezzo Mario Devi metterla in mezzo Ti prego Piazza Così siamo Un passaggio Servo Un passaggio Siamo in porta Bravo Di Mario Meno male che L'ha bumpato il tipo Perché se no sarebbe stato Troppo forte Va bene Va bene Va bene Dopo il mio die Si è svegliato È un die Magico Ma non cantiamo Ancora vittoria Perché Eh no Non ce l'ho Bravo Mario Prendi boost Frega di tutti Dimmi che Goal L'ha tirata fuori Mannaggia Lui La controlla Sì che la controlla Sono indietro Mh Mi è salito il catarro Mi spiace Ok Tu Te la lascio Vuoi fare quello che vuoi Ok Alzata Feico Perfetto Ok Godo Sono troppo forte Sono troppo forte Grazie Grazie Let's go Vado Occhio eh No Bruttissimo Dai Ma va che cazzo fai Ma io non ci credo Ragazzi Bella karma Grazie mille per il follow Purtroppo Un rank Dove trovi Sege Come compagni Sono C2 Divisione 4 Ok Perché mi tagli Perché mi tagli Tua mamma Ok Pallo e mezzo Perfetta per Mario Che non va Ok L'abbiamo fatto saltare E facciamolo saltare ancora Io non ho boost Tocchiamole Basta Ci hanno fregato il boost Abbiamo solo da prendere i bustini Bustini partiti Questo è un pallonetto Perché stava pushando Aggressivo Un po' troppo Un po' troppo Palla su E pedalare Ok Recopriamo un attimo Di boost Palla Non ci credo Mamma quanto Cazzo Sono forte E vabbè E vabbè Mi bumpa pure Mia sorella Ok Tua Per favore Vuoi fare Ranked con me Dipende dal tuo rank Karma Ok Un controllino Un controllino Mamma mia Mamma mia Li arriviamo tutti Ok Perfetto Madonna Che cool Ragazzi Perché Mi stava un po' Mi stava un po' Stretto Colli Mario Eh Non ci credo